Un'epidemia si sta abbattendo da molti mesi sui pini della capitale ed ora anche su quelli del litorale. Lo denuncia l'Associazione Italia Nostra Roma, che già a novembre aveva segnalato la presenza di una cocciniglia di nuova specie che ha avuto il suo primo focolaio nella trascurata pineta di Pompei. Da fonti scientifiche estremamente attendibili, si legge in una nota del gruppo, la cocciniglia ha sviluppato un nucleo di infezione all'Eur ed ora anche le riserve naturali stanno subendo questo grave attacco. Chiediamo ancora una volta alle autorità preposte di attivarsi immediatamente per inquadrare questa nuova, potenzialmente catastrofica, epidemia che non deve essere sottovalutata. Tutte le sperimentazioni, da qualsiasi parte provengano, purché con solida base scientifica, devono essere valutate con estrema urgenza e qualsiasi tentativo, anche sperimentale, deve essere messo in atto per arginare l'attacco. I focolai vanno affrontati subito per evitare la distruzione della specie che caratterizza storicamente il paesaggio romano e il suo litorale. Non si può più aspettare perché l'inerzia è un'epidemia peggiore della cocciniglia tartaruga, termina il comunicato di Italia Nostra.